E io chiamo Rete Veneta, lo spazio riservato alle vostre segnalazioni stasera ci porta lungo la ciclabile tra Mason Vicentino e Breganze. Un nostro telespettatore ci invia questo video che mostra una situazione di incuria e di pericolo per chi viaggia in bicicletta e rischia di intrecciare le ruote con la vegetazione sporgente. Erba incolta, corsia praticamente invasa e un generale senso di abbandono, una segnalazione che porteremo all'attenzione di chi ha competenza su quel tratto di ciclabile.